No, però a parte gli scherzi, raga, secondo me hanno fatto un buon lavoro. Cioè, tutte le carte si sistemano qualche cosa per essere uno dei migliori god, secondo me. Vabbè, tutti a me. Tutti a me. No, no, no. Guardatemi tutti a me. Oh, che porco del due, porco. Guarda quello là dentro. Non mi si muove! Uff, cattro, non seca. Ah, ci ho ricercato. Che so, rincoglionito. Ne credo che mi stanno sparando tutti a me. Ci ho ricercato. È una corona in capoccia. Ne credo che non mi sparano tutti a me. Allora, c'avevamo quella a destra. Ok. Che mi sta sparando la casetta di Zubbabel. Tirare belle stecche alle persone. Questo è il segreto. Tirare belle stecche alle persone. Massimo Allerta è molto bella qua, eh. Eccola qua, Massimo Allerta che subito che... Che vive. Dov'è, dov'è? Massimo Allerta, clacciale solo, ragazzi. Le claccia. Da sola le claccia. O comunque sto vedendo... Ho visto un sacco di commenti positivi nella beta di Modern Warfare, eh. Ho una maria di gente con commenti positivi. Perché all'inizio magari non erano tanti abituati al movement. Poi quando hanno capito... Che comunque sia... Andavano più veloce... Tantissimi si sono regreduti. Ma un boato di persone, raga. Sono contento. Sono contento. Almeno. Almeno meglio le Vanguard e the Cold War. Soprattutto sulle console girate. Sulle console sono stracontenti perché girava veramente bene. Eppure là sono contento, raga. Perché parliamo se chiaro. Non è che girava troppo bene. Con l'MP5... Ma poi era tutta una questione... Esatto, ragazzi. È tutta una questione di attachment e di che arma usi. Raga, con l'MP5 planavi. Raga, l'MP5... Tutti i bagno hop. Tra l'altro il bagno hop resetta lo scatto d'attico. Avete visto il bagno hop resetta lo scatto d'attico? Praticamente fai il bagno hop e c'è lo scatto d'attico. Fai il bagno hop e c'è lo scatto d'attico. Quindi fai uno, due e... Questo che è venuto qua? Stridato! Mamma mia, sette piassi così. Aspetta, mi buscia? Mi buscia con la macchina? È un bel mattacchione? È un bel mattacchione? Sì! Oh, peccato. Quello è un bel mattacchione, Raven River. Da busciare. No! Scappa, scappa da me! Fuggi! Povero stoltaro! Stoltaro! Oh, che bello! Qui sotto c'è qualcuno! Andiamo a stanare, ragazzi! In 5, 4, 3, 2, 1... Oh, no! Vabbè, 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 me ne accollo sempre, me ne accollo sempre. Poi un altro sta... Allora, due stanno qui sotto e uno sta qua sopra. Dove? Qui? No, quella dopo, alla stazione di benzina al market. Andiamo, andiamo. Eccolo là, 3, 2, 1... Boom! Ok, perfetto. Allora, adesso andiamo a quest'altro. C'è un altro qui in questa casetta. Per esempio, tenna vita loca. La prima, la seconda, la prima. Quindi, magari lo vedo proprio adesso qui. Non lo vedo? Vediamo un po'. Vingo. Vada. Mamma mia, se mi entrava così, se me riportavano tutti. Mezzo mondo me riportava. Mezzo mondo. Mezzo mondo! Mamma mia, però. Però, Dario, Dario. Tu sei a rischio. Tu sei a rischio. Te lo dico, anche se c'è l'UAB, sei a rischio. Per un attimo, mi sono caccato sotto, per un attimo. E in botte volacca, esatto. E in botte volacca. E tutto e due, tutto e due, tutto e due, tutto e due. Allora, silenzio di tromba non è male. Silenzio di tromba non è male. Tanto, silenzio di tromba sta nerfato su Modern Warfare 2, eh. Avete sentito il silenzio di tromba? Quando tu lo attivi, praticamente premi un pulsante che si sente. Quindi, all'attivazione si sente il silenzio di tromba. Quindi, occhio quando lo tirate su Warzone 2. Perché vi fate sgamare se non siete bravi? Eh, la sapevate? Troppo forte sta, troppo forte. Sta, ma è veramente stupida, quel fatto che puoi stoppare la ricarica. Troppo forte. Silenzio di tromba. Non se l'aspetta. Salgo qua. Se l'aspettava, però vabbè. Davanti a me e qua giù, vediamo se riesco a vederlo. Se sparano. Sopra. A terra. Ma ce l'accogliamo anche così. Ce l'accogliamo anche così. Saldi. Sto attenti, però. Non si sa mai. Eh, ho capito, bro. Molto lo faccio, molto lo faccio. Eh, ho capito. Vado pure in giro nudo. Va bene, va. Eccolo qua. Eccolo qua, il San Cesare, bibbro. Io ti ho detto. Allora, allora. A me basta che me lo dici, bro. Io tiro le tecole in testa delle persone. Me lo dici. Me lo dici, bibbro. Allora, aspetta un attimo qua. Prima devo stare, perché. Comunque dieci persone. Quindici bombette. Si può andare per ventello. Troppo rischioso qua, eh. Rischiosissimo qua, eh. Allora, qua c'è gente incastrata nei miei andi di casa Doom, ovunque. Allora, però, a parte gli scherzi, regà. Secondo me hanno fatto un buon lavoro. C'ha tutte le carte, si sistemano qualche cosa per essere uno dei migliori god, secondo me. In generale. Mai fatti. Speriamo che lo facciano. Anche a livello di ottimizzazione, regà, su PlayStation 4. Io ho visto. Oh, regà, ma io ho visto PlayStation 4 comparata a Play 5. Oh, ma va, eh. Ma hanno, oh, hanno spolpato la PlayStation 4. Secondo me è ottimizzato per console, regà. Da paura. Speriamo che lo sia pure Warzone. Mi pusha poco, perché sono sicuro che sono incastrati. Eh, regà, se faceva schifo la gente non ci giocava. La beta l'hanno spolpata. Io ho, io ho amici, ho amici che non hanno né giocato a Vanguard né a Cold War. E nemmeno ancora Water Warfare 219. Ma la beta l'hanno spolpata, regà. E perché gli piaceva? Eh, gli piace il gioco e via. Ma meno male, regà. Meno male. Almeno. Pericoloso, pericoloso qua, regà. Pericoloso. Regà, ma dove stanno tutti, oh? Otto personale, ma dove stanno? Io qua andrei con la macchina, ragazzi. Non me la rischio. Macchina e pusho sotto. Guarda questo. Perché che mi ha mirato da sotto? Bau, bau! Ma mi mirano da basso. Dove cazzo sta? Sta qua sotto da me, oh. L'altro non mi pushano. Ok. C'è una fontanina che sta passando a basso. Uno qua alla casa mia di qua. E uno che sta passando qua sotto. Che non vedo però. Perché sta ancora a destra. Devo salire sopra, devo salire sopra. Oh! Mira no! Ok, fatto. Ok, allora. Quanti siamo? Quattro. Uno stava dentro da giallo. Uno giallo. Uno qua. E uno me l'ho perso. Quindi uno sta qua dentro che sparava quello. Uno stava qua. Non so se sono un piano sotto. E me ne manca uno però, eh. Non sto in safe. E non posso pusharla qua a questa casa. Sotto. Dai! Santa Maria, madre di Dio, prega per noi San Cesaro. Adesso la nostra morte. Stecchetta. Sono sotto? Un cecchino! Sì! Dai! Bet uno! Boom! Stretching. Eh, sbattato. Ma c'è stretching? Eh, eh, papà, papà. Ah, sì. Così. Ah, 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 ah. Ma mi dirò un carciolo solo. Sei pronto? Ma mi dirò un carciolo solo, eh? Sei pronto? Eh, eh. Ma mi dirò, eh? Ma mi dirò, eh? Aspettate. Aspettate. Ci sto quasi, ci sto quasi. Aspetta, aspetta. Ragazzi, ma... Ragazzi, ma seriamente, ma che cazzo è? P***!